Lo spazio Ex Ansaldo, vi piace? Vi piace l'idea? L'idea è un'idea bellissima ma non è giusta per noi, verrà fatto un bando che fa parte del programma, non è una risposta a Macao. Questo è il programma di Pisapia, certo adesso questa cosa si sta velocizzando, un anno dalla sua elezione, però non è una risposta a Macao, è il suo programma. Penso che se arrivano questo tipo di proposte a Macao, probabilmente non è stato capito Macao. Macao parla di una terza via che è quella che afferma la cultura come bene comune, che si inserisce in questa rete nazionale che si va a costruire di giorno in giorno e fortificare e che esce da questa dicotomia fra la delega del pubblico e la privatizzazione che sono sostanzialmente le due dinamiche di gestione degli spazi.